Abbiamo scelto all'interno di Bimbi in Fiera, che è una manifestazione rivolta al mondo delle mamme, bambini e famiglie, un prodotto of MyerLight, proprio per trasmettere un messaggio che a volte non è così chiaro. Uno dei luoghi più inquinati che c'è è sicuramente il luogo di casa nostra. Trasmetterlo in una situazione di bisogno, perché quando arriva un bambino o una mamma in gravidanza penso che sia assolutamente un valore sia per la famiglia che per l'azienda stessa, dando un prodotto altamente qualitativo e pensiamo che questo incontro possa assolutamente trarre dei vantaggi a tutti. AirLight credo che sia un prodotto assolutamente innovativo rispetto a tutto il tema di quello che è l'inquinamento e l'aria in genere. L'abbiamo conosciuto e intercettato proprio per questo, perché riteniamo che soprattutto anche nel mondo delle famiglie che usufruiscono da parte nostra di informazioni, far conoscere queste caratteristiche e questa valenza di questo prodotto sia assolutamente interessante. Consiglierò AirLight perché rispetto a questa sua caratteristica migliora assolutamente la qualità dell'aria e oltre al tema delle polveri sottili, anche rispetto alle cariche batteriche, penso che sia un vivere meglio nel proprio ambiente casalingo se ci riferiamo al prodotto che si può usare in casa. Penso che AirLight possa assolutamente disegnare il concetto di sostenibilità grazie alla valenza che ha come prodotto anche perché utilizzandola e applicandola immagino che assolutamente altri tipi di prodotti accessori possano non essere utilizzati.